qualcosa che non va? la cipolla e le carote cosa hanno fatto? non ci sono e non le trovo vado a cercarli dove credi che siano? saranno nell'orto come al solito ti sei fatta male? non tanto, sto andando nell'orto, vuoi venire con me? no, grazie tante, mi piace starmene nella mia rullosa guarda che nell'orto c'è l'insalatina, sai? beh, allora vengo dove siamo? nell'orto, benvenute, volete l'insalatina? cercavo la cipolla, sai dov'è? laggiù, nel teatro dei pomodori vado a vedere hai fame, eh? e allora un cetriana incontrò la zucca e le disse ciao zuccona! tantissimo, ciao zuccona! sei venuta apposta a vederla? sì, ma cercavo anche le carote loro stanno più avanti grazie, ciao pomodalone devono essere qua ehi, quella carota non era finita questa qui? sì, riporta laggiù, per favore ti apro la porta quelle sono già finite quelle sono ancora da fare vuoi vedere come si fa? oh, certo! è un'opera d'arte opla, ecco fatto ti piace? tantissimo ti credo è un'opera d'arte e io sono un grande scultore di carote anzi, sono il migliore wow complimenti beh, adesso devo andare ciao ciao guarda presto dobbiamo andare lo conosco appena poi mi corre dietro scappiamo allora vieni nella roulotte ti porto a casa io si fila, eh? sì ci siamo divertite, vero? sì ti ricordi quella martelletta della cipolla che è molto grande ciao, Armandone ciao perché piangi? la cipolla l'hai tagliata? no è simpaticissima fa piangere da ridere senti questa un cetriolo dice alla zucca ciao zuccona che storiella stupida ciao zuccona